Perché vedi? È nuovo anno e mamma si è ammalata, vero? Mi ha due occhiali! Mi ha due occhiali. Ma noi dove andiamo, dottore? A fare attore. Andiamo a correre? Ma dove andiamo a correre? A Roma. A Roma. E però tu devi prima far guarire mamma, vero? E tu dai? Eh, io ce l'ho un po' mal di gola, un po' mal di testa. Ma per i detti se tu la duro? Eh, mi sa che mi sono entrati i germi nella gola. Allora mi devi aiutare? Ti aiuto? Apri le tue valigie? Dottore? Dottore, dottore. Sicuramente sarà una bella giornata di corsa quando tu la fai guarire la mamma, vero? Ah, vedo adesso. Apri la bocca. Apro la bocca? Ma dai. Beh, beh, ci sono. Ce lo germi? Sì. Beh, e io dai via. E io dai via. Ok, gli facciamo andare via. Ah. Ah. Sono andati via? Sì. Sicuro? Sì. Sono già guarita? Sì, mature, sì. Ah, mi hai fatto vedere respirare? Ah, pure cuascelo. Sì. Mi devi... Mature? Ok, e cuore, devi vedere cuore. Bene sta. Sta bene cuore? Sì, sta bene cuore. E polmoni? Eh sì. E polmoni? Eh... Facciamo respirare? Eh, tu beh, sta bene. Ah, sta bene pure cuore? Sì. Pure polmoni? Sì, pure noi so be... Riori, vuoi vedere se è bello? Eh, bro, c'è un po' di mal di mancia. Grazie, non... Che cosa posso fare? Eh, non lo so. La medicina? Mmh, sì. Oh, grazie, dottore. E io metto... Per le due. Quindi, le faccia è l'uno dei due. Per le due. Per le due. Ok, aspetta, mamma. Che li dobbiamo aprire. E mamma, non ci riesci ad aprire queste tue medicine? Come si fa? Oh, che sa mi? Eh, dottore? Qua ha chiuso a cassaforte queste medicine. Mamma mia. Ok. Oh, oh, oh. Eh, sono fatti. Ok, prendo due. Ci sono due. No, sono tanti. Oh! Vedo. Ok. Grazie, dottore. Ma questo mi aiuta? Oh! Questo mi aiuta, dottore? Sì, sì. Mmh, già sto meglio. Sì. Giusto proprio molto, molto meglio. Ma dove vai? Allora, adesso, sicuramente, corriamo, dottore, molto bene, vero? Io non voglio, dottore, reggere il vento. No, puoi reggerlo. Perché anche dottori possono correre, vero? Sì. E poi, dottore serve, perché se qualcuno sta male. E poi, dottore serve, quando qualcuno sta male, soccorre il dottore Samuel, vero? E li metti a posto, vero? Sì. E sì? E quanto prendi ogni visita? Eh? Quando prendi alla visita? Quanti soldi ti devono pagare? Venti. Venti? Euro? No, solo venti. Solo venti? Sì. Ok. Solo venti euro per la visita. Come? Niente, vero, dottore? No, solo venti. Solo venti. Bravo. Più umile, sto dottore. Solo venti. Bravo. E tu sai? Eh, c'è un mal di testa. E gola. E tu è la gola? Sì, è la gola. Respira. E non respira. Non respira. Sì, è la gola. Apri la bocca. Vediamo che c'è germi. No, è il lupo che devi aprirla. Dove ce l'hai questa cosetta per aprirla bocca? Aspetta, mamma, ti guarda. Passa, dottore. Perché non apri la bocca? Perché non ce l'hai la paletta, no? Per aprirla. E adesso... Ecco, vedi, adesso sta apri la bocca, lupo. Bravo. A posto. A posto. Sta bene, lupo? Sì. Stai bene? Sì, sì, sta bene. Grazie, dottore. Hai curato oggi la mamma e pure il lupo. Sì, poi la pavis. E allora sei stato proprio bravo, grazie. Ma tu sei qui? Ti devo pagare adesso subito? Sì. Della visita? Sì. E quanto deve essere? 20. 20. 20. Pure la mamma fai pagare, mi fai qualche sconto? Sì. 10, dai. Mamma 10 mi prendi, Samu. No. Io voglio metti. Ok. Va. Metti? Ok, 20. Va bene? Metti? So 20, sì. Hai dubbi? Che so 20? 20. Non mi fai sconto 10 euro? Non fai sconto, mamma? Eh? Non fai sconto? No. Deve essere 20? Sì. Tanti auguri al dottore, tanti auguri al dottore, tanti auguri al dottore, tanti auguri al dottore. Va bene così, Samu? Sì. Dottore Samuel? Sì. Ok. Allora dove andiamo? A Tore. A correre. E oggi con noi corri pure dottore. Ma tu mi corri da sola. E io non devo correre da sola. Io oggi corro con Samuel. Sì, ma da piedi vuoi. Tu a piedi? Eh certo, oggi corriamo a piedi burre. Puoi correre anche due chilometri a piedi non c'è. Ma tu a piedi. Ok, va benissimo. Ok, perfetto. Oggi andiamo più divertirsi come fare una gara. Oggi facciamo piano piano, chi puoi scendere da passeggino puoi scendere, fare un chilometro, due. Quello che ti senti di fare. Quando ti stanchi mettiamoci in passeggino. Va bene per te? Sì. Ok, d'accordo. Facciamo oppa. Oppa. Non è andato, sa? Dai, andai. Oppa. Attento, non perdi quando cadi giù. È perso, vero? Sì. Eh? Oggi così fa caldo che dobbiamo prendere burre. Ventaglio? Ventaio. Oh, caldo, caldo. Sì o no? Caldo o freddo? Caldo? Io sono caldo. Tu c'hai caldo? Sì. E oggi allora tu bevi spumante, prosecco? Cosa bevi? Niente. Latte della detta? No. No? E cosa bevi oggi? Niente. Eh, con qualcosa devi brindere, no? Fare brindes. Come si dici? Ho spariato parola? E come si dici? Brindare. Oh, devi brindare. Ecco. E la mamma lo sapeva che è. Hai perso, hai perso. Perso, hai perso. Allora, oggi si fa brindare. Giusto adesso ho detto? Ho perso. Oggi si brinda. Oggi si brinda. Ma non ho perso. Annaggia, l'abbiamo perso. Oggi si brinda. Con cosa si brinda? Con latte? Sì. Con sfumante? Con prosecco? Con cosa si brinde? Ho perso. Ho perso. Mamma mia, siamo perso. Dove sono le... Oh, chi sta per cadere? Io. E tutto. Allora, quanto manca per andare a Roma? Gli ottanti. E... Oppa. E oppa. E oppa. E oppa. Dottore. Una coppia perfetta. La principessa e dottore. Vero, sa? Sì. Minumare. Che bella coppia che siamo. Capito, c'è? Capito, c'è? E papì, elefante. Va bene? Sì, è vero, dottore. Eh, ok? Sì. O li facciamo giraffa? Sì. Facciamo giraffa? Sì. Oppure possiamo fare... Pupazzo di neve! Che ne dici? Sì. Ok. Allora, tu sei? Dottore. La mamma? Letta. Principessa. E papì? Pupazzo di neve. Pupazzo di neve. Ok. Vedi, Samuel, che traffico abbiamo beccato? Meno male che siamo partiti prima. Se no, non arriviamo alla gara, vero? No. Mamma mia, che traffico! E purtroppo siamo beccati un incidente. E c'è? Eh sì. Eh, c'è un incidente. Che corrono come scema. Piccoletto si sta per addormentare. Vero, Sammy? Però da una parte è meglio che dormi adesso, eh? Prima della gara. E da gara a che ora parte? Alle due. Allora c'è tempo. Eh... Adesso... Mesegiorno meno venti. Che arriviamo. Così riposa un pochetto e poi andiamo a correre. Eh... Si svegliava parecchie volte la notte. Questo si è addormentato. Ma si è alzato presto, presto. La mattina. Siamo arrivati. Ecco. Sto quasi per finire i rami zoom. Prima della gara. Però, come ho detto già prima, che questa gara non ci prendiamo proprio serio. Questa gara... Mmm... Facciamo piano piano, giusto, per stare insieme a compagni di squadra, con il mio piccoletto. Perciò andiamo piano piano. Sammy! Ultimo pezzo di tiramisù. Chi si mangia? No! Vai! Mmm... È buono? Eh, sì? È buonissima. Samuel è grande, vero? Mangia da solo la pizza, vero? Morì? Sì, non... Io non sono piccola. Certo, sei grande. Mangia, mangia. Mangia. Che manca un'altra... Un'oretta e mezza per la partenza, va bene? Dei mangiare tranquillo. Poi andiamo a fare passeggiata, e poi mettiamo un bettorale e andiamo a correre. Va bene? Questo io devo portare. Però io ho sentito che tu sei grande, allora mangi da solo, no? Bravo! Mangi da solo. E adesso dai tu! Oh, metto scarpa e poi ti lo do io. Va bene? Ce la fai un altro pochetto a mangiare da solo? No! Paraculetto sei vero? Un pochetto. Ora hai tu! Ecco. Andiamo alla partenza! Siamo tantissimi! Tanti, tanti, tanti! Eccoci! Attento qua! Guarda, qua si vola! Uno, due, tre, si vola! Hoppla! Andiamo! Qua si parte o si arriva? Oh, bravo, sa? Andiamo! Uno, due, tre! Hoppla! Hai visto com'è bello? Dai! Andiamo! Vai, vai, vai! Bravo! Corriamo, corriamo! Dai, fammi! Vai! Vai, mamma! Più forte! Più veloce! Più veloce! Più veloce! Più veloce! 2.023! Ti stai correndo, sa? Stai correndo o no? O stai camminando? Vai! Ora, chi si è scordato Samuel in macchina? Torrola! E allora, come solido, dobbiamo tornare indietro. Poi, come solido, prima di partenza dobbiamo tornare verso la macchina. Vero? Mamma, e poi... E poi la colana e poi la bacchetta magica, giusto? Sì! Ok, allora, andiamo? Ok. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti